Ciao a tutti gli appassanati di orologi. Lo scorso weekend ho partecipato per la mia prima volta a Vicenza Oro ed è stata un'esperienza decisamente interessante. È stata anche un'ottima occasione per vedere da vicino alcuni modelli presentati da pochissimo e per approfondire la conoscenza di altri marchi. Per evitare di pubblicare un video eccessivamente lungo ho pensato di dividere in due parti tutto quello che ho visto in fiera. Qui vi parlerò dei marchi presenti a V-O'Clock Privé e per non fare torti a nessuno ho seguito l'ordine alfabetico. Nella prossima puntata vi parlerò invece della sezione Time di Vicenza Oro, quella riservata soltanto a commercianti e addetti ai lavori. Buon divertimento! il nostro gruppo di Alpina è stato un grande notizio perché Alpina sarà iniziata l'attacco di Ritual Network in Italia. Correct! Un momento speciale per Alpina. Abbiamo aspettato per questo per un tempo molto interessante. Abbiamo in Vicenza a V-Oro. Abbiamo iniziato l'attacco di Alpina in Italia questa settimana. La prima settimana del primo mese di una storia di Alpina in Italia. super exciting. You have just launched a few novelties in Geneva Watch Days and they're very interesting. For example, there's this one that you have in your hands, which is the Heritage model. Exactly. So we come back from Geneva Watch Days, we launched two really nice novelties. We have here the Alpina Heritage piece reminiscent of the 1930s design. Of course the cases were much smaller in period. Here we have a 38 millimeter, but you can really see the inspiration on the dial. So we've got a nice Art Deco dial, nice Dauphine hands, really nice case design. Very close, you know, to the essence, to the DNA of Alpina in period. When you think that this was a sports watch at the time, we've come a long way, right? I'm super happy with it. Everything has changed. Correct. Usually we're not talking so much about the history about Alpina. Actually Alpina has a very long history. Correct. Alpina is a historical brand, many innovations over a year. We celebrated our 140th anniversary last year. Not so many brands can be proud of just a very long heritage. It's a beautiful history. We actually started as a watchmaking union, really bringing together different actors of the watchmaking industry at the time. So not only movement developers, designers, but even retailers at the time, to develop strong, sturdy watches that could resist the harshness of the Alps. So Alpina, of course, comes from Alps, you know, and Italy is an Alpine country. Yeah. So it's only logical, it's only logical, you know, that finally we come here as well. So we have our essence in sports watches. The DNA is still here. So with what we're presenting today, the 38 millimeter heritage, you can find that back. Of course, we've got a wider but very comprehensive collection led by the Alpina extreme that really still has that DNA, you know, so strong, powerful watches that can resist to be harshness and, you know, challenges of the Alps. And what about the other novelty? This is actually the opposite because the other one is very classic and this one is very modern. So this is what's interesting about the Alpina collection. So we have the DNA coming with the heritage. Then we've got a very strong collection that's led really by the extreme case design that we originally launched in 2005, but relaunched in 2022 with a fully redesigned case. We have here a 39 millimeter. So after the Seastrong, it's the first Alpina we're launching extreme in 39 millimeters with really a beautiful skeleton dial. I think it really brings out the case and the bracelet design really, really nicely. So we've got really a nice finishing. So the case structure and construction is made in four layers. They're all manufactured independently with different finishings, which really gives this, you know, really nice glow and reaction to the light with brushed, polished, satinated parts. So it really makes it makes it super nice. So I wish you and Alpina very good luck for the Italian market because I'm very sure that most watch lovers will be interested in this brand because you're making very interesting designs with very high quality with very interesting history behind you. So I really wish you good luck. Thank you very much. I mean, it's super exciting time. So I'm super proud to be here. Thanks for your time. Let's wish great success all behind Italy. Thank you. Sono qui con Enrico Bolletta, direttore vendita di Frédéric Constant, un altro marchio che è qui presente a Walklock Privé e un altro marchio che recentemente a Ginevra ha presentato alcune novità interessanti. Molto, molto. Ce ne vuoi parlare? Abbiamo detto che ci diamo del tu. Volentieri, volentieri, assolutamente. A Ginevra durante Ginevra Watch Days sono stati finalmente presentati alcuni modelli speciali. Io vorrei parlare solo di uno, dell'eccellenza. Il tuo preferito. Il mio preferito, assolutamente, perché è una meraviglia della natura, perché è il tourbillon in oro bianco, in una cassa in oro bianco di 39 mm e con un quadrante spettacolare che è l'avventurina. Quindi ogni quadrante diverso uno dall'altro, con delle sfumature. Uniche che conquistano per l'aspetto estetico, laddove dominante invece l'aspetto tecnico con il tourbillon di manifattura prodotto da Frédéric Constant. Ne sono stati fatti solo 36 esemplari, o meglio, ne stanno facendo solo 36 esemplari, però siamo molto orgogliosi perché l'Italia è il primo mercato per questa tipologia di prodotto. Sei di questi 36 sono destinati al nostro mercato. E poi c'è un'altra referenza che in qualche modo ha un qualcosa di naturale perché ha un quadrante di pietra, perché è malachite. Esattamente. Quest'anno Frédéric Constant a Watches & Wonders ha introdotto due nuovi calibri, l'FC 706 e il 716. Il 716 è il calibro di manifattura con fasi lunari, che ha una prestazione superiore perché la riserva di carica è stata portata a 72 ore, senza però ridurre le alternanze, quindi con un grande lavoro di ricerca. La versione più preziosa di questo nuovo modello è quella con cassa in oro bianco, come il tourbillon prodotta in soli 36 esemplari e con un quadrante anche qui straordinario, quindi in pura malachite. E anche lì vale il discorso che facevi per l'eventurina, cioè ogni orologio sarà diverso dall'altro, dipende dal taglio, poi dalla pietra. Esattamente, la bellezza della pietra naturale è precisamente questa, è un prezzo sicuramente interessante per la tipologia del prodotto, come sempre per la nostra marca, però certamente non così accessibile, perché parliamo di due specialità al top della collezione. Certo, un po' per il materiale, un po' per la particolarità tecnica del tourbillon in un caso. E per la limitatissima produzione. Io ho assistito alla preparazione, mi ha fatto vedere la preparazione dei quadranti, il taglio della pietra dura ed è qualcosa di incredibile. C'è uno scarto di materiale pauroso e questo fa anche di evitare il prezzo. Però i quadranti, uno diverso dall'altro, sia per l'avventurina che per la malachite, sono affascinanti. Grazie, è stato un piacere. Grazie, grazie a te. Prima di spostarmi allo stand successivo, mi è caduto l'occhio su un'altra novità in arrivo. Una iLife War Timer in edizione limitata per il mercato italiano. La tiratura è di soli 100 pezzi, tutti numerati e oltre alla colorazione inedita del quadrante, c'è anche la nostra bandiera tricolore sull'anello con i nomi delle città corrispondenti ai diversi fusi orari. Tra i vari espositori al V-O'Clock Privé, sempre nell'ambito di Vicenza Oro, mi sono fermato a guardare da vicino il nuovo disco volante di Furlan Murray. Un orologio che ho trovato davvero originale e ben fatto, con cassa da 38 mm e animato dal calibro Eta Pese 7001. Gran Seiko era rappresentata in fiera dalla gioielleria Andrea Concato di Verona, che è concessionario ufficiale del marchio e che ha portato quasi l'intera collezione. Per me è stata un'ottima occasione per vedere per la prima volta il nuovissimo SLGA 025, la referenza più recente entrata a far parte della linea Evolution 9. Il magnifico quadrante in colorazione verde acqua ha una trama che si ispira alle acque del fiume Atera nella prefettura di Nagano. Quindi, Leica non fa soltanto fotocamere. Leica non fa soltanto fotocamere, ovviamente noi siamo conosciuti in particolar modo per la qualità delle nostre fotocamere e delle lenti. In pochi sanno che il nostro fondatore, prima che ancora Leica diventasse una compagnia, iniziò a Ginevra cinque anni di esperienza nel mondo dell'orologeria, facendo un training, che lo portò poi in seguito ad acquisire un know-how importante e lo trasformò sia nei microscopi di precisione, perché Leica iniziò inizialmente con microscopi di precisione, fino poi ad arrivare alla sua idea, che era quella di costruire una macchina fotografica che fosse trasportabile e utilizzabile da tutti. Il figlio di Ernest Leitz nel 1914 fece uscire il primo prototipo di 35 mm. Gli orologi, praticamente il dottor Kaufmann, che poi è il CEO della nostra azienda, concretizzò questa idea nel 2015, facendo uscire poi nel 2021 lo ZM1 e lo ZM2, che sono due orologi a carica manuale, costruiti completamente in Germania. Il calibro è in partecipazione con l'Eman. Abbiamo due versioni di questi orologi, il Date e il GMT. A livello di quadranti abbiamo il monochrome e il silver, classico. Il monochrome perché, questo nome, perché riprende le nostre macchine fotografiche di alta gamma della linea M, in particolare monochrome perché scattano in bianco e nero. Particolarità di questi due orologi, tendenzialmente negli orologi di lusso la corona viene espulsa, per poter poi modificare la data, l'ora. Mentre noi abbiamo deciso di pensare diversamente e per poter modificare l'orario di premere questa ghiera, perché ricorda un po' il momento in cui scattiamo con le nostre macchine fotografiche e fermiamo il tempo. Ripremendo la ghiera, la lancetta dei secondi va direttamente a mezzogiorno. Mezzogiorno, in questo caso abbiamo la versione GMT che comprende il cambio di data e estraendo quest'altra ghiera, ruotando, all'interno possiamo settare il nostro orario per il fuso orario in qualsiasi momento. Qua abbiamo un'altra piccola chicca che ci fa capire se dall'altra parte dove abbiamo settato l'ora è giorno o è notte. E questo comunque è fondamentale. Ripremendo si setta l'orologio, premendo la nostra corona qua diventa bianco e il meccanismo parte. L'orologio in questo momento è attivo. Questa è la nostra riserva di carica che man mano, mentre si scarica diciamo che diventa piano piano nera, come poi ripreso dalla nostra tendina dell'otturatore della macchina fotografica. Un anno e mezzo fa, o pressa poco, è uscita la nuova collezione di Lizetta M11, che sono degli orologi più sportivi, che vengono associati più alle nostre nuove fotocamere Q3SL, in questo caso le nostre due nuove linee. L'orologio è un orologio automatico con calibro 3001, preso da Cronod, che è anche un'azienda svizzera che produce calibri per Sirus in particolar modo. È un date semplice, in tre quadranti abbiamo il Midnight Blue in acciaio, con cinturino in acciaio, abbiamo il Coffee Black e poi abbiamo questa versione, che è la versione con cassa in titanio, con cinturino in titanio, limitata a 250 pezzi al mondo. La peculiarità di questo orologio è che in base a come si guarda il quadrante, il quadrante cambia colore da nero a rosso, perché abbiamo due quadranti sovrapposti in questo caso. Un'altra caratteristica di questi orologi, che ha un vantaggio, è lo sgancio rapido, che ricorda con questo dotto rosso lo sgancio e l'aggancio rapido dei nostri obiettivi M, in particolar modo della M6, nata nell'84. Quindi tutti i cinturini sono utilizzabili, sia quello in strap, sia quello in caociu, in acciaio. Anche Nomos era presente in fiera grazie alla gioelleria Andrea Concato di Verona, concessionario ufficiale del marchio. Per le novità dovremo aspettare il Forum Agla Suite tra qualche settimana, ma è stata comunque l'occasione di rivedere alcune varianti del tangente 31 Colors in edizione limitata. Allo stand di North Kane, il Wild One, in edizione limitata per la National Hockey League Players Association, ha catturato il mio interesse. Al di là della colorazione, il quadrante ha una lavorazione superficiale che ricorda, per l'appunto, un campo da hockey su ghiaccio con i vari solchi lasciati dai pattini. Bello anche il Neverest Glacier, altra edizione limitata, con un quadrante che si ispira ai ghiacciai himalaiani. È animato da un calibro prodotto da Kenissi e il 10% del ricavato delle vendite verrà devoluto al Butterfly Help Project in Nepal, per aiutare le famiglie di Sherpa che hanno perso la vita sulle montagne. Sono qui allo stand di Speakmarine e per farvi vedere una delle novità che sono state presentate a Geneva Watch Days. So this is the new Ripple Skeleton, we launched it during the Geneva Watch Days, it's completely redesigned by Stéphane Lacroix, we changed completely the case, so we are now in a very ultra thin case, only 6.3 mm of thickness. We launched also the new movement, in-house movement of Speakmarine, so it's the SMA-07, it's operating with a microrotor integrated, 5 Hertz. We can find also the very strong element of Speakmarine, as you can see the small second positioned at 1.30, which remains the Ripple's collections. We have also the Hertz-shaped hands, which are flamed blue. The movement is only 3.25 mm of thickness. It's also made by Le Cercle des Horlogers, which is an in-house atelier. We are in the new stainless steel bracelet, so it's the 904L, and we also add the new micro-adjustment on the new bracelet. You have two bottoni here, and if you press, you can get 2 mm from each side. I'm here at the Stenditutima, which, by the way, I've discovered, is a brand that is also coming on the Italian market, so fortunately, for us Italian-like fans, it will be easier to access these beautiful German-like glasses with a seat in Glashütte, so in the country of the German-like glasses. Now I'll show you some very interesting models. Let's start with the Manufacture Collection. That was almost a surprise for me, I was telling you about this, because when I'm thinking about the TUTIMA, it's always that one in my mind, yes. And when I see these models, it's really impressive, thinking that it's TUTIMA again. It goes back to our origin, to our history. But, making a long story short, the brand was launched in 1927. After World War II, we moved to Western Germany, but in 2008, we moved back to our origin, Glashütte. And to highlight this, we launched in 2012, the first German in Glashütte manufactured minute repeater. And from there, we developed our classic, traditional collection, which is here part of it, so it's called the Patria collection, which shows a very classic, traditional watch, sub-dial, small second. But more important is our in-house movement, which has the typical Glashütte design, which shows the three-quarter plate. So, the plate covers three-quarter of the movement, traditional way, balanced cock, skeletonized, so very classic, traditional manufacture movement. We also have our own escapement system, but this movement is based on, actually, on the minute repeater we launched in 2012. So, but here in a basic version. We have different calibers, we also do a GMT, the dual-time GMT, and a power reserve. So, different versions in different dial executions, white, grayish. A watch in gold, which we have here, is around €20,000. In stainless steel, it's also available, it's just below €10,000. In addition, we launched, a few years ago, a flyback chronograph. So, it's not a chrono only, which is already a complication. It's also a chrono with flyback function. You can start immediately with a second counting. So, you push the lower button without stopping, and it starts and resets automatically. Traditional design, so we have here the sub-dial with a small second, and here the minute counters up to 30 minutes. It's a manual wound, real beauty of a movement. Tutima launched 1940, the first German flyback chrono, supplied for the German military pilots. So, this design of movement goes back to the movement we had already in 1940. So, as we first started from more classical watches, now we're switching to more military or… Pilot watches, aviation. The chrono, the tempo stop, the flyback chrono, was used. In one of those, we introduced 1940 for the German military pilots, and since 1980, we also supply again the German military pilots with our watches. For example, with the former version of that one. I want to introduce the latest version, which is here in titanium. And this is really a tool watch. So, it's part of the equipment of the pilot. Some of the requirements are fulfilled in the watch, like the integrated pushers for the stopwatch, for the chronograph. Integrated crown, screwed in for the water resistance on top. No edges, no angles has this watch. Really an integrated bracelet, so very strong. But, even more important, it's easy to read. Very clear dial, no reflections. 300 meters water resistant. The watch is also available with the pilot, for the pilots with the bezel, so they can turn the bezel in either direction. The same watch with the reduced dial, so there's no 24-hour display and no sub-dial for the seconds. It looks like a three-hand watch, but you have the chrono function, so for most people it might even not be visible, it's a chrono, because the display is very different. All of them are made in titanium. All of them are in titanium grade 2. All of them are in titanium grade 2. All right, I'm here at the stand of Villa Hervetta, and here next to me is Beppe Ambrosini. Good morning. Good morning Beppe. It's a pleasure to meet you. Thank you for me. Diciamo che chi è appassionato o di orologi o di auto è facile che in qualche modo sapi chi sei. Non elettrica, non elettrica, non elettrica, perché è la tua guerra, la tua crociata. la mia crociata contro gli orologi al quarzo e contro le lavatrici. Allora partiamo intanto dagli orologi e tu praticamente sei un consulente per un creativo. Sono un consulente, sono anche in società con Marcello Binda su questo progetto che a me piace tantissimo perché c'è una storia incredibile con Villa Erbetta, 100 anni di storia, non c'è futuro senza storia, questo lo dico sempre. In questo caso, proprio parlando di storia, abbiamo 100 anni quest'anno, festeggiamo i 100 anni e quindi abbiamo fatto due rilanci importanti, uno è quello del Jumbo Star che è nato nel 1968, quindi questo è l'orologio, non so se si riesce a vedere, lo abbiamo lasciato il più fedele possibile all'originale, quindi sia come dimensioni 40 mm all'epoca, quindi stiamo parlando di fine anni 60, era stato chiamato Jumbo perché era il più grande in millimetri, quindi 40 mm era una misura estremamente grande per l'epoca, l'orologio era 36-38 mm abitualmente, quindi 40 mm era già qualcosa di importante. Quindi Jumbo Star, 40 mm, spessore, siamo riusciti a contenere lo spessore utilizzando un calibro ETA e abbiamo uno spessore di 12,9 mm di altezza per 40 di diametro. L'orologio che a me piace moltissimo, ha una riconoscibilità molto elevata, quindi non è la copia di nessuno, è il Jumbo Star a 2.900 euro di prezzo al pubblico, molto ben portabile e poi dal crono, che era diciamo il suo originale, abbiamo fatto anche l'automatico solo tempo, sempre con la cassa 40 mm, sempre con la doppia corona, tutte e due le corone sono a viti, vetro e zaffero bombato antiriflesso e questo ha un prezzo al pubblico di 1.500 euro. E questo come movimento invece monta la Juppere? La Juppere, questo è la Juppere, quello è un ETA 2894. Diciamo che rispetto alla reinterpretazione più recente del Jumbo Star, quella che era uscita un paio di anni fa, quando c'era stato il rilancio di Villarvetta, si nota molto il lavoro che avete fatto a livello di progettazione della cassa, perché grazie anche all'utilizzo del movimento diverso, questa è molto più compatta, molto più sottile. Sì, 3 mm più basso. La differenza si vede, no. Il disegno è stato riportato all'originale, quindi non più con modifiche stilistiche, era bello quando è nato e l'abbiamo riportato dalla sua bellezza, ecco. E quando è che saranno disponibili? Da ottobre. Da ottobre. Bene. E quindi sulle auto che cosa ci puoi consigliare per chi è appassionato oggi questo discorso di andare verso l'elettrico? È una condanna praticamente. Allora, innanzitutto sono contro le imposizioni. Quando mi impongono qualcosa io già non sono uno da imposizioni e quindi imporre l'elettrico è stata una grande sciocchezza, anche perché non ci sono le infrastrutture. Non abbiamo la corrente, che non è cosa da poco, non abbiamo le colonnine. Poi togliere dei motori termici, che sono delle sculture, sono per mettere i motori delle lavatrici, non è così che si salva il mondo. Anche perché dopo sei anni le batterie vanno sostituite, che fine faranno le batterie non si capisce, non si sa. E poi i costi che li assorbe, perché cambiare le batterie a una Porsche ci vogliono 6.000 euro. A carico di chi? Del proprietario della macchina. La deve rivendere. Chi acquista la macchina dopo cinque anni che fa? Io non ne comprerò mai. Poi anche lì non è un'imposizione. Assolutamente. E uno, gli piace fare la fregatura, se lo capo i suoni, è libero. Grazie, è stato un piacere. Piacere mio. Arrivederci, ciao. Sono qui allo stand di Zenith, sono in compagnia di Paolo Cappiello, che ci parlerà dell'ultima novità del marchio. Ciao Paolo. Ciao Mattia, buonasera. Sì, oggi ti presento il nuovo DeFi Skyline Tourbillon, Felipe Pantone Edition. Felipe Pantone è uno degli street artist contemporanei più rilevanti. Siamo al quarto anno di collaborazione, questa è la terza edizione che abbiamo con lui. Oggi presentiamo questo magnifico orologio che ha i codici dell'arte di Felipe, principalmente il gioco di ridescenza, che vediamo sul quadrante, vediamo sugli indici, sul ponte del tourbillon, dove vediamo il bilanciere ad alta frequenza, il bilanciere al primero, con le sue vibrazioni a 36.000 alternanze. E lo stesso motivo lo troviamo poi sulla massa oscillante, che subisce questo processo di brunitura che gli dà i colori iridescenti che poi ritroviamo sul quadrante. Un quadrante particolare è un quadrante in zaffiro che viene poi specchiato e viene poi successivamente trattato con una spruzzatura che gli dà appunto questo effetto cangiante che si vede particolarmente bene quando l'orologio si muove e la luce impatta sul quadrante da angolazioni diverse. È un'edizione limitata a 100 pezzi, su cassa Defi, quindi sulla cassa iconica del Defi Skyline, questa cassa ottagonale con questa ghiera dodecagonale che richiama appunto i primi Defi degli anni 70. E voi che cosa ne pensate? Che cos'è che vi ha colpito di più? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e noi ci vediamo presto con un altro video.